A Caltanistetta si avvicina la data di inaugurazione e apertura dell'impianto di Portella della Ginestra. Sì, finalmente, speriamo quanto prima, io mi auguro entro la prima decada del mese prossimo, di aprire appunto al pubblico finalmente l'impianto di Portella. Purtroppo dalla dichiarazione che abbiamo fatto appunto di volere aprire comunque questo impianto, ad oggi sono trascorsi diverse settimane, ma ogni volta ci sono sempre adempimenti da un punto di vista burocratico che purtroppo fanno sì che le intenzioni sono una cosa, i fatti poi purtroppo si rivelano lunghi e ci danno parecchie preoccupazioni. Sarà gestito direttamente dal Comune? Sì, noi abbiamo detto dopo che praticamente sono falliti tutti i tentativi, ben quattro che abbiamo fatto per legge di dare in gestione questo impianto, falliti perché quelle pochissime istanze presentate non si sono rivelate utili e proficue, abbiamo deciso comunque di aprire, anche se abbiamo quelle grosse difficoltà che tutti conosciamo in termini di personale, in termini anche economici. Quindi aprendo questo impianto il pubblico potrà, il pubblico, insomma la città potrà usufruirne, vediamo anche, vedremo anche di instaurare delle forme di collaborazione anche con enti, federazioni sportive, in modo particolare per promuovere iniziative nel campo appunto dell'attività motoria in genere. Abbiamo già avviato dei contatti con delle federazioni, speriamo che quanto prima anche queste cose possano essere portate avanti. Per la denominazione avete pensato a diversi nomi a cui intitolare? Sì, c'è qualcosa in pentola, vogliamo intitolare questo bell'impianto, è un impianto polivalente in cui si possono fare diverse discipline sportive, ad una figura insomma che sia anche particolarmente legata a questa città nel mondo appunto dell'attività motoria, dello sport in genere. Speriamo presto di arrivare a queste conclusioni, ci stiamo lavorando proprio in questi giorni.